Oltre 6 sono i miliardi di euro che Ferrovie dello Stato investirà in Abruzzo. La società per azioni ha risonoto il piano industriale 2022-2031. Dei 190 miliardi complessivamente messi a disposizione per i prossimi 10 anni, 6,35 sono destinati a interventi in Abruzzo. È un piano di investimenti volto non soltanto ad aggiornare le infrastrutture e implementare la mobilità, ma vi è attenzione particolare alla transizione ecologica, si legge nel comunicato del gruppo, con attività di efficientamento e riduzione dei consumi. Gli investimenti in Abruzzo non riguardano le sole ferrovie, ma ridisegneranno anche le strade. Dei 6,35 miliardi, la maggior parte è sotto la voce polo-infrastrutture. Qui sono attribuite risorse per 6,23 miliardi. Di questi, circa 4,5 miliardi sono per la mobilità su ferro, in primis per il raddoppio della Roma-Pescara, ma anche per la velocizzazione della linea adriatica e il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della Terni-Rieti sul Mona. Circa 100 i milioni di euro destinati al polo passeggeri, che si tradurranno principalmente nell'arrivo di 6 nuovi treni dedicati al trasporto regionale e nel potenziamento dell'offerta da e per Pescara e in nuovi servizi di interesse regionale. Ammontano invece a 1 miliardo e 730 milioni di euro le risorse destinate alle infrastrutture stradali, tra gli interventi anche quelli sul quarto lotto della Teramo Mare. Il piano di investimenti comprende anche il polo logistica e il polo urbano. Per il primo si prevede un potenziamento e lo sviluppo di nuovi collegamenti, che dovrebbe portare nel giro di 10 anni a un incremento del fatturato anche dell'80%. Per il polo urbano invece si stimano circa 300 mila metri quadri di aree da valorizzare, con i principali progetti che riguarderanno la stazione di Roseto degli Abruzzi e ulteriori interventi, in primis sulla via verde della costa dei Trabocchi.